Attenzione! va va vai 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 non fai cazzare non fai cazzare per favore cerca di calmarvi non fai non fai non fai fai pace Sì Oh Perché sei in silenzio? E' stasera qua, sei in silenzio Oh E non suoniva Non metti la distingue Lo vuoi succedere? Non metti la distingue 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 No, ero sono scusa Ciao Orest Eppaaaa Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Non mi riuscire Arrivo ma c'è un altro scappatene scappatene fa quanti cosi cosa sento più questa qua bambardo dimmi dov'è dai 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 fatti cosi veloce ti do 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Cosa è successo? Cura di me! Mettilo a me in quel corso Mettilo a me in quel corso Mettilo a me Ma non so io non ho fatto niente C'è quel medici ma Guarda Sto tommeno Mettilo a me in quel corso Ma in quel corso Ma in quel corso Ma in quel corso Io non ho capito niente quella Aizia 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 Aizia